Ed esce dall'acqua il campione d'Europa, Christoph Milag! E' il momento della finale, cinquanta, stile libero, donne! Corsiera otto per l'Olanda! Lady number eight, representing Netherlands, Tessa Gille! Corsiera uno, Danimarca! Lady number one, representing Denmark, Jullia Kep Jensen! Corsiera sette, Francia! Lady number seven, representing France, Verile Gazzardello! Corsiera due, Gran Bretagna! Lady number two, representing Great Britain, Anna Hopkins! Dorsia sei, Olanda! Lady number six, representing Netherlands, Valérie Van Rhone! Lady number three, representing Italy! Dorsia tre, per l'Italia, Silvia Di Pietro! Dorsia cinque, la vice campionessa mondiale di Lunga per la Polonia! Lady number five, representing Poland, Cartagena, Basik! Dorsia quattro, è la primatista del mondo, è la campionessa del mondo, è la campionessa olimpica per la Svezia! Lady number four, from Sweden, Salah Westrum! This is the final of the women's 50 meter freestyle! Finale, cinquanta, stile libero, donne! Ancelor Christoph. Lungaอ Hast dönique! SIREN VIRUS SIREN Vincere Sara Sjordsblom 23.91 Parogna 24.20, terza Valeri Vangone, Olanda 24.64 Signore e signori, Sara Sjordsblom vince la medaglia d'oro e con questa medaglia è in assoluto l'athleta in Europa che ha vinto più medaglie agli europei, ventisentesima medaglia, Sara Sjordsblom! Cassia Fasic here with the silver, Valeri Vangone with the bronze, great race, great final we got here. Signore e signori, Sara Sjordsblom! Signore e signori, Sara Sjordsblom! Grazie.